Cos'è il Condifesa Piacenza? Condifesa Piacenza è un consorzio di oltre 1500 imprenditori agricoli che dal 1970 si occupa di supportare gli agricoltori nella difesa delle avversità atmosferiche come eccesso di pioggia, gelobrina, seccità, alluvione, grandine o vento forte. Perché conviene associarsi? Conviene associarsi perché studiamo e confrontiamo per te tutte le polizze assicurativi disponibili sul mercato. Sappiamo consigliarti quella migliore per la tua produzione. Inoltre sappiamo farti beneficiare di ogni contributo pubblico disponibile per ridurre i tuoi costi assicurativi. Siamo al tuo fianco dalla stipula della polizza all'erogazione di eventuali risarcimento. Il Condifesa Piacenza offre inoltre delle convenzioni molto vantaggiose per tutti i nostri soci come RC Trattori, Rimarchi, Fiduzione, Polizze e Infortuni.